Scusate se l'audio è un pochino brutto ma si è una cosa così, questo è un video informazioni infatti è una richiesta, è un video richiesto da Zaddi Ma abbiamo un attimo parlato, molti hanno visto che Zaddi non ci sta più da tempo O per voi sarebbe tipo Nova Albania così nel server discord, abbiamo fatto dei video Abbiamo anche una collaborazione però come sappiamo noi adesso stiamo diventando adolescenti Dobbiamo andare molto a scuola, quindi lui aveva molti impegni con la scuola e roba così Stava in famiglia credo, non so bene cosa mi ha detto però aveva molti impegni con la scuola Non aveva proprio tempo per si distrazione al telefono e roba così sempre studiare Quindi non so quando ritornerà, magari forse prossima settimana quando finiremo la competizione del 21 maggio infatti Ragazzi se volete fare video con noi spero che vi iscrivetevi e roba così che potete vincere un concorso Dove vi lascio il link qui sotto è uno short, fate il commento più divertente e chi fa il commento più divertente vince Ovviamente almeno due concorrenti ci devono stare Quindi sì, dovete avere il discord e è finito Ragazzi spero che il video vi sia piaciuto e spero che anche Zaddi viene Ciao Ciao